buonasera vediamo questa nona parte di questa serie di video nona e ultima parte di questa serie di video che ho chiamato corso forex per spiegare nel modo specifico come vedo l'attività e come opero come lavoro nel mercato del forex abbiamo parlato dalla prima sessione in poi delle caratteristiche uniche nel mercato poi ho spiegato una serie di cose per far capire i vantaggi del mercato del forex poi abbiamo parlato di piani di trading come vanno costruiti durante la sessione precedente vi ho fatto vedere come praticamente un piano di trading è composto come si inizia a utilizzare il software di trading simulato per fare esercizio vi ho spiegato anche che i profitti arrivano in larga parte i profitti dipendono in larga applica il piano quindi dieci persone diverse con lo stesso piano produrranno dieci risultati differenti quindi per fare un buon lavoro con il piano di trading è necessario acquisire necessario acquisire una competenza ok quindi bisogna imparare ad applicare il piano perché il risultato finale dipende in minima parte del piano ok possiamo dire per un 20 per cento dipende dal piano per un 80 per cento dipende dalla persona poiché il piano indica una direzione ma non è un'unica direzione ci sono una serie di possibilità che dipendono poi dalle scelte che il che l'imprenditore o il trader così come vogliamo chiamarlo metterà in atto durante la sua gestione ok e allora durante questa sessione cosa voglio farvi vedere voglio spiegarvi come utilizzare il software di trading simulato per imparare l'applicazione nel piano di trading è un validissimo esercizio quando iniziato io questi software non ci stavano non ci stavano e quindi tutta l'esperienza bisognava farla mercatoriale questo questo causa un dispendio di tempo notevole perché per imparare c'è bisogno di attendere i tempi del mercato e quindi ci vuole molto più tempo e molto più impegno mentre con questo software è possibile fare esercizio da casa allora che si vuole tutto il tempo che si può dedicare negli orari più comodi quindi sicuramente è una grande facilitazione però bisogna sforzarsi di utilizzare bene nel modo corretto il software perché se il software di simulato viene utilizzato in modo sbagliato è tempo perso se invece viene utilizzato correttamente costituisce un validissimo esercizio per il miglioramento delle proprie capacità applicative rispetto a quello che il piano di trading un'altra cosa voglio aggiungere poi vediamo il software quando applichiamo un nuovo piano di trading ok dobbiamo preoccuparci sempre di ottenere quelli che sono i dati operativi i dati operativi sono i dati che escono fuori dalla prima applicazione del piano e che fanno emergere le problematiche quindi problematiche di natura applicativa problematiche legate al piano grazie a questi dati che possono essere positivi o negativi e in ogni caso ci fanno comodo ok ci fanno comodo perché diventano uno strumento di analisi per migliorare il piano di trading per migliorare le nostre capacità applicative rispetto a quel piano ok quando applichiamo per la prima volta un piano anche se l'abbiamo scritto noi sicuramente scappa qualche errore sicuramente ci sono correzioni da fare è naturale il punto qual è che se io faccio milo a fare esperienza solo a mercato reale impiegherò molto più tempo e impiegherò anche maggiori risorse finanziarie perché chiaramente l'esperienza che si fa a mercato reale costa perché devo utilizzare il denaro reale mentre un po' di esercizio attraverso questo software ci fa risolvere tutta una serie di problematiche di natura applicativa i difetti del piano che tutte cose che possono essere risolte prima per aggiungere poi già a un certo livello di maturazione all'applicazione pratica al mercato reale una volta iniziata poi l'applicazione pratica mercato reale anche in quel caso emergono delle problematiche delle cose da correggere da migliorare però la gran parte del lavoro ok se viene fatta prima chiaramente questo fa accorciare i tempi far ridurre i tempi i tempi che servono per per avere un piano pienamente ottimizzato e per avere un un operatore un gestore un trader un imprenditore così come vogliamo chiamarlo in grado di utilizzare quel piano in modo soddisfacente ok e questo porta ad avere dei risultati di anno in anno in modo sistematico ok bene vediamo il software di simulato un grandissimo strumento a mio avviso si chiama forex tester ok andate sul sito insomma forex tester si chiama proprio così il sito noi abbiamo anche uno sconto per gli studenti del progetto forex university uno sconto che non posso dare a chi non è ancora studente del progetto ma chi entra a far parte lo possiamo dare semplicemente perché mi è stato chiesto appunto dai signori di forex tester di tenere lo sconto riservato soltanto agli studenti per non metterlo troppo a disposizione all'esterno ecco questo è stata la richiesta io ho accettato perché perché comunque è un favore che ci hanno fatto ok comunque il software costa a prezzo pieno circa 300 dollari che se vogliamo non è nulla rispetto a quelli che sono quelle che sono le spese che servono per fare esperienza mercatoriale quindi sicuramente vale la pena di investire qualcosina su un software di questo tipo e e vi faccio vedere come lo utilizzo quindi noi partiamo con una simulazione adesso per ragioni di tempo già l'ho preparata perché richiede un po di tempo fa un po di calcoli ok comunque si caricano che si carica lo storico delle coppie dalla center si carica lo storico delle coppie qui vedo che sull'euro dollaro dal 2010 fino al 2017 di un broker specifico fxdd ok perché pagando la differenza è possibile fare l'upgrade caricando i dati storici di una serie di broker ok altrimenti altrimenti forex tester ci fa lavorare con forex site che un broker rosso credo insomma i dati vanno anche bene ma sono più scadenti ok mentre così è possibile utilizzare i dati di migliore qualità scusate solo un attimo scusate poi dopo richiamerò allora quindi abbiamo l'euro dollaro i dati storici che ho caricato io ho avviato una nuova simulazione ed è tutto pronto adesso prima di partire andiamo a vedere un momento il piano di trading il piano di trading che utilizzeremo è quello basato sul piano base ok che cosa devo cercare nel piano di trading è tutto definito quindi abbiamo il contesto strategico come rilevare la tendenza primaria come studiare il contesto generale perdonatemi solo un momento scusate solite pubblicità spengo proprio adesso il telefono ci tormentano in genere vi ricordo di spegnerlo ok scusate determinare la direzione della tendenza primaria studiare il contesto generale determinare il contesto giornaliero per valutare opportunità il setup e le regole di gestione beh il piano vi ricordo che è lo stesso piano che io vi do quando vi iscrivete al coaching gratuito quindi potete consultarlo tranquillamente il contesto strategico è indicato e praticamente si basa sulla congestione giornaliera di almeno 10 barre quindi le due barre settimane laterali magari dopo una congestione questo una congestione più ampia questo fornisce una prospettiva per lo sviluppo di un'ampia tendenza ok lavoriamo con le congestioni di circa 10 barre giornaliere bene allora sappiamo cosa cercare per fare questo lavoro dobbiamo tracciare i livelli i livelli che vi ho già spiegato devono essere livelli tondi se li tracciamo bene riusciamo a trovare la liquidità a supporto sufficiente per lo sviluppo di una tendenza attraverso il time frame mensile noi determiniamo la direzione della tendenza primaria sappiamo che adesso la tendenza primaria è il ribassista ok cosa che abbiamo visto nel corso delle settimane scorse quindi abbiamo un livello tondo che è 108 che in questo momento è il punto principale ok 108 quindi abbiamo avuto una chiusura mensile ok oltre 108 questo indica la presenza di liquidità a supporto in una direzione quindi abbiamo la direzione della tendenza primaria che è il ribassista tracciamo quindi un alto livello che ci serve adesso qui ce n'era uno importante in base al livello di importanza possiamo scegliere un tratteggio differente cerchiamo sempre il livello tondo come spiegato in precedenza trovate anche un articolo su questo nel blog e quindi tracciamo tutto quello che ci serve per fare un buon lavoro e mi risposta un po insomma ma importante che ci siamo capiti per un poi di lavoro uno seria giusta qui abbiamo 105 e 50 ho messo e qui 104 va benissimo 104 quindi lo vado un attimo a correggere anche qui sul settimane purtroppo l'unica cosa che non fa questo software è per tracciarmi i livelli da automaticamente da un time frame all'altro cosa che per esempio pro real time fa però pro real time non non è la piattaforma di simulato quindi non possiamo utilizzarla per fare questo genere di esercizio serve per fare analisi ok bene quindi a che cosa abbiamo trovato già adesso siamo al primo di gennaio al 2 di gennaio del 2017 abbiamo tre barre settimane laterali e abbiamo una congestione sul giornaliero ok le false rotture indicano i tentativi falliti da parte dei trader istituzionali di trovare liquidità supporto oltre quel punto quindi tracciare correttamente 104 è di vitale importanza perché la prima chiusura oltre 104 anticiperà lo sviluppo di un'ampia tendenza di bassista ok cosa si fa adesso si avvia il software di simulato e come vedete sviluppa praticamente simula l'andamento reale del mercato allora io mi devo mettere qui attraverso il software di simulato per trovare quelle condizioni presenti nel piano e per operare secondo appunto queste indicazioni al termine di un ciclo al termine di un ciclo di almeno tre mesi posso fermarmi ragionare sui dati operativi e poi proseguire ok è chiaro che con il software di simulato è possibile fare fare trading per un anno ok in un'ora due ore quindi non è una cosa che riusciamo a fare con una certa velocità e ci da ci restituisce molti dati sul nostro lavoro ok e oltretutto si fa un grande esercizio per quello che riguarda l'applicazione pratica del piano si fa esercizio anche perché si osserva il comportamento del mercato si incontrano tutta una serie di problematiche che è naturale affrontare con questa attività e quindi è una validissima preparazione per affacciarsi poi al mercato reale è chiaro che come dicevo prima che il software di simulato va utilizzato nel modo corretto altrimenti non è uno strumento è una perdita di tempo e nel modo corretto significa che è preferibile se devo misurare i dati operativi della mia operatività è preferibile evitare di mettersi grafici i grafici passati sull'altro monitor ok se devo fare esercizio per imparare l'applicazione di un setup per migliorare determinate parti del piano allora può essere utile mettersi il grafico storico da una parte attivare il simulato ricercare le opportunità e lavorarci su e questo serve per fare un po di esercizio per imparare l'applicazione del setup per imparare la gestione per migliorarla tutto questo però se devo misurare l'andamento della mia operatività e far emergere le problematiche è preferibile non avere i grafici aperti aprire il simulato a partire da un anno ok in questo caso preso il 2017 e dedicarsi a misurare quindi da questa applicazione perché grazie a questo utilizzo poi emergono una serie di problematiche lato trader lato piano ok si imparano i tempi per l'individuazione di un'opportunità qui si ha una prospettiva assolutamente poi assolutamente realistica di come deve essere svolta l'attività di trading vediamo un po io aspettiamo un po qualche minuto vediamo di far girare un po il mercato vediamo se se esce almeno un'opportunità per produrre una gestione insieme giusto per farvi capire come come funziona poiché non ho visto grafico passato non so se a gennaio del 2017 ci sono opportunità legate a questo piano potrebbero anche non esserci ok vediamo possiamo velocizzare un po quindi con barri da 5 minuti in questo modo il mercato scorre via con barri da 5 minuti poi si può regolare la velocità grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti andiamo avanti con barri da 5 a 15 minuti a noi interessa adesso una chiusura sotto il livello di confine sotto 1,40 perché il mercato e il consumimento sta lavorando all'interno di questa ampia area di congestione settimanale quindi ci interessa una chiusura sotto il primo livello chiave disponibile perché quello quel tipo di chiusura indica la presenza di liquida supporto in in questo caso anche oltre 1,05 posso mettere il livello rosso in questo modo la prima chiusura sotto 1,05 e 50 costituisce un preavviso di vendita e sotto 1,40 una conferma di vendita mentre se il mercato sale e supera 1,08 indica un'inversione nella tendenza primaria e quindi cambia nuovamente lo scenario e vada a seguire le opportunità di artiste ok il mercato finché resta all'interno di 1,08 e 1,05 e 50 resta laterale e quindi io non ci lavoro perché la dinamica laterale e ostile si comporta in modo differente rispetto ad una dinamica di trend quindi quel tipo di comportamento non è in linea con il mio piano allora che cosa vedo qui? il mercato sta andando avanti ho messo un attimo in pausa così possiamo un attimo discuterne ecco un difetto del software di simulato è che crea manifesta parecchi gap più di quanti ce ne siano stati al mercato in passato ecco questo è l'unico difetto significativo che mi sento di segnalare per il resto è un grandissimo software il mercato ha risalito sopra 1,08 e quindi devo cercare la mia congestione giornaliera a questo punto sopra 1,08 per valutare opportunità rialziste adesso ok? e allora cosa faccio? devo aspettare due barre settimane laterali perché questo tipo di contesto mi produce quella congestione che è presente nel piano quindi per avere condizioni di mercato compatibili con il piano so che devo aspettare questo tipo di condizione sul settimanale e di conseguenza questa condizione sul giornaliero quindi due barre settimane laterali per avere sul giornaliero una congestione di almeno 10 barre perché quel tipo di formazione tende ad anticipare lo sviluppo di una tendenza ampia mi cerco un alto livello tondo qui il mercato sembra veloce però non riesco ecco qua le due barre settimane ci sono state devo tornare un attimo indietro e questa è una comodità del software dissimulato perché ci consente di fare esercizio l'obiettivo non è simulare la realtà ma è fare esercizio ok? facendo emergere quelle che sono appunto le problematiche allora io una volta se il mercato scorre via velocemente come in questo caso io posso tornare indietro fino al punto in cui è previsto il setup a questo punto posso rallentare il mio tempo avviare il simulato so che qui sotto c'è l'orario so che posso fare il setup nella realtà dalle 7-8 del mattino la sera prima so che devo fare il setup ok? qui c'è la congestione eccola qui come era questa qui soltanto che questa è il realzista le due barre settimane laterali ci sono il livello chiave è 109.50 la chiusura ci sta oltre 109.50 e costituisce la radice per lo sviluppo di una tendenza questo non significa che l'opportunità andrà a buon fine sicuramente ok? un certo numero di volte andrà a buon fine un altro numero di volte invece tenderà a produrre una spesa attraverso la gestione siamo in grado di garantirci una piccola spesa quando il mercato deludia le aspettative quando invece si sviluppa la tendenza ci impegniamo a massimizzarne il risultato ok? allora quindi abbiamo l'orario qui sotto grazie al simulato noi possiamo arrivare all'orario della mattina ipotizziamo le 7 del mattino ecco qua bene e possiamo mettere in pausa possiamo mettere in pausa ridurre anche la velocità ok? ok? se abbiamo bisogno di tornare indietro di qualche passo possiamo crearci un time frame a 5 minuti no da questa parte si chiama il time frame e fare qualche passettino indietro da qui qui arriviamo alle 6.41 alle 6.41 lo facciamo il setup di solito io solitamente dalle 7 inizio ok? quindi vado avanti e alle 7.4 minuti riparto ok? per simulare appunto una situazione reale perché alle 6.40 francamente non ho mai fatto il setup quindi devo mettere in conto anche questo bene nel piano base che cosa ci ha indicato? nel piano base ci ha indicato che quando ho un'opportunità di questo tipo circa 8-10 pipi più lo spread posso fare il setup di medio termine sulla barra di trend e questo che conto è? non mi ricordo il money management dovrebbe essere una roba del genere andiamolo a vedere è tutto quanto indicato nel piano in base al conto questo è un conto di 10.000 dollari 10.000 0.9 chiedo scusa 0.9 sì 0.3 medio e lungo termine ok l'ho messo bene 0.9 e l'alto ordine 0.3 ok posto il setup si avvia il simulato con un tempo più ridotto in modo da leggere e fare esperienza da questo punto di vista per osservare il comportamento reale del mercato quello che il mercato fa in che tempi sono le 7.30 del mattino ci ha preso entrambi gli ordini e qui entra poi la gestione in base a come applico la mia gestione ok vado a spostare i miei stop secondo le regole del piano vado a ridurre il rischio oppure intervengo per garantirmi una piccola spesa se il mercato torna indietro senza produrre un'opportunità adesso il piano base indica che nel momento in cui si sviluppa una tendenza posso spostare il rischio al 50% ok se il mercato invece torna indietro ve l'ho spiegato nel corso delle sessioni precedenti intervengo per garantirmi una piccola spesa al 50% oppure se il mercato resta in prossimità della mia entrata senza produrre nulla a fine giornata applico lo stop a tempo ok quindi varie regole che servono a garantirci una piccola spesa dai 50% agli 80 pip no chiedo scusa questo tipo di operatività prevede un'operatività di medio termine e di lungo termine il medio termine si deve incassare intorno ai 300 pip il lungo termine oltre la settimana ok quindi io miro adesso a fare un profitto nel corso della settimana se si svilupperà un segmento di trend quindi non devo correre ridurre di stop devo dargli il tempo al mercato di sviluppare questa tendenza ok questo è giusto per farmi un esempio di come esiste il software e di come dovete imparare l'applicazione pratica di un piano di trading utilizzando questo strumento no quindi non mi sto dicendo entrate al mercato no mi sto solo invitando a fare esercizio a definire un piano se non lo avete e imparare nell'applicazione attraverso un software di questo tipo ok tutto questo lavoro ci aiuta moltissimo a imparare come il mercato si comporta realmente e le problematiche no per esempio in questo momento il mercato sta sviluppando una tendenza ma potrebbe con la prossima barra praticamente crollare e portarci via questo poco profitto che ci ha dato questo fa parte di una delle conseguenze assolutamente naturali che bisogna accettare ok il piano base nel momento in cui si sviluppa un profitto intorno ai 50 pip ci consente la riduzione degli stop al 50 e questo ci dà la possibilità di attendere i tempi del mercato senza vigilare più sul setup perché nel piano è definita una spesa che se si giunge a una spesa pari al 50% del setup è pienamente gestibile quindi possiamo dare il tempo e lo spazio al mercato di far crescere i profitti nel tempo grazie al tempo ok se invece il mercato crolla ci dà una spesa al 50% noi lo segniamo a bilancio e sappiamo che è una spesa assolutamente sostenibile e questo non ci dà alcuna preoccupazione il trading deve essere uno strumento per farlo lavorare per noi non dobbiamo essere noi gli schiavi che stanno davanti dal computer ma una volta definite le regole bisogna mettersi lì e farlo lavorare ok sappiamo le regole quali sono sappiamo come gestire il rischio e sapendolo questo ci dà la possibilità di lavorare sereni tranquilli senza alcun dispendio di energie inutili insomma bene metto un po' più veloce se no facciamo una cosa troppo lunga vediamo di giungere a fine giornata a fine settimana siamo a martedì giusto per 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 compiegare quella che è una gestione ok abbiamo intorno ai 90 pip adesso in mercato vediamo il comportamento della barra precedente potrebbero sviluppare una nuova barra di trend in presenza di prese di profitto ridotte oppure potrebbe crollare ok in ogni caso noi non interveniamo più perché il piano ci indica delle regole precise dobbiamo attenerci a quelle regole ok nel momento in cui si sviluppa una tendenza di questa entità possiamo portare i nostri stop a pareggio significa che non rischiamo più capitale nostro e quindi se il mercato crolla ci torna indietro noi possiamo praticamente non stiamo rimettendo più capitale nostro perché si chiudono praticamente a zero le regolazioni una volta aggiunti a questa fase possiamo dare il tempo tutto il tempo e tutto lo spazio al mercato tutto lo spazio insomma spazio che c'è tra l'entrata e il prezzo attuale per sviluppare una tendenza ok arriviamo a fine settimana come dicevo siamo a venerdì si giunge a fine settimana e si conclude quella che è la gestione di medio termine quindi della prima operazione e si porta avanti la gestione di lungo termine ecco qua è finita praticamente la settimana ha fatto scorre velocemente il simulato quindi verso le 20 le 22 al massimo insomma no le 20 chiedo scusa si interviene per concludere la ma anche verso le 18 insomma si interviene per concludere la gestione di medio termine quindi cosa si fa si va sull'ordine di medio termine si incassa si lascia a pareggio qui e si dà la possibilità al mercato di proseguire sviluppando una tendenza nel corso della settimana successiva ok e così via adesso non è inutile andare avanti perché comunque la gestione richiede un certo numero di altri approfondimenti ma quello che io volevo farvi vedere oggi è volevo darvi visibilità del software di come può essere utilizzato se già ne disponete vi ho dato un'indicazione per utilizzarlo se non ne disponete e volete fare un po' di esercizio ok nel corso delle settimane precedenti vi ho spiegato come si giunge dall'analisi di mercato alla creazione di un piano di trading c'è tanto altro da dire no perché queste sono sessioni più che altro di preparazione ma servono per darvi una una prospettiva chiara di come l'attività deve essere condotta se vi piace questa attività potete condurla in morosano in questo modo ok se ritenete che sia troppo complesso per voi forse è meglio accantonare il trading per il momento ok lo dico come consiglio amichevole perché se il trading per farlo bene richiede impegno se fatto bene fornisce un grande vantaggio ma se si cerca la scorciatoia ok perché alla fine uno si rompe le scatole di mettersi a studiare e lavorare ecco quella nel trading quella via è una via molto pericolosa ok mentre la via dove ci dedichiamo a studiare e a costruire ci porta con un po' di impegno a dei grandi vantaggi ok bene io vi saluto spero che sia stata sempre costruttiva questa sessione dalla prossima settimana le sessioni cambieranno ho messo a punto una nuova organizzazione vi spiegherò tutto poi riceverete le mail lunedì e vi indicherò come procedere ok ciao a tutti e buona serata ciao a tutti